Si chiama Fratelli Lupi ed è l'opera dell'artista Eugubina Maria Cristina Vinciarelli, scelta come cartolina del Pellegrino 2023, iniziativa promossa ormai da lustri dalla Diocesi di Gubbio assieme al progetto Piccola Accoglienza. Un messaggio di benvenuto artistico accompagnato da un fioretto del Santo Poverello che ogni anno la Diocesi Eugubina consegna ai tantissimi pellegrini in cammino sulla Via di Francesco che in questo 2023 prende forma con la creazione di Maria Cristina Vinciarelli in cui l'eterno connubio tra San Francesco e Lupi diviene simbolo di un viaggio dove umanità, condivisione e spiritualità non sono che fattori d'insieme verso la ricerca della nostra luce interiore. È un po' un biglietto di benvenuto, un augurio al pellegrino che arriva in questa terra, che attraversa il sentiero di Francesco, l'arte che viene messa a servizio della bellezza perché ovviamente da lì molte ispirazioni sono venute nella storia ma poi la cartolina porta con sé anche un pensiero, una preghiera, quindi anche la spiritualità che accompagna il cammino di chi decide di attraversare l'Umbria verso Assisi. Questo strumento semplice della cartolina del pellegrino ormai accompagna dall'inizio questo venire dei pellegrini nel sentiero di Francesco insieme alla credenziale che è l'altro strumento principe del percorso. Una cosa semplice, però la piccola accoglienza di Gubbio l'ha sempre predisposta pensando proprio all'accoglienza dei pellegrini. Il cammino non è di nessuno, il sentiero è aperto a tutti in qualsiasi momento dell'anno. Questa presenza di chi nel territorio accoglie i pellegrini, fa loro da guida, supporta nei vari servizi, piano piano ha creato una rete di fratellanza, di amicizia perché tutti coloro che amano camminare a un certo punto si sono ritrovati uniti dal desiderio di aiutarsi a compiere questo cammino. Sicuramente attorno al sentiero di Francesco sta crescendo tantissimo, oggi si diremmo una community di persone che hanno condiviso la bellezza del camminare in mezzo alla natura seguendo un percorso che è ispirato ovviamente alla storia di Francesco. Centrale l'impegno della piccola accoglienza Gubbio per quanto riguarda la fondamentale opera di supporto ai pellegrini oltre che la cura delle credenziali, oltre 5.000 spedite solo nell'ultimo anno. Noi per la via di Francesco spediamo le credenziali, spediamo le credenziali in tutto il mondo. L'anno scorso siamo arrivati dall'Australia alla Sud America e lo scorso anno è stato un anno di ripresa e più di 5.300 credenziali sono state spedite da questo ufficio in tutto il mondo. C'è un nostro addetto che a turno si dedica a ricevere le varie prenotazioni e a imbustare e spedire con il nome, intestando il nome, la destinazione e a spedire in tutto il mondo le varie credenziali. Mette i timbri sulle varie tappe nei vari posti in cui va e alla meta, quindi ad Assisi o a Roma, può ricevere un testimonio che è il testimone appunto che ha fatto quel cammino e è una cosa che i pellegrini gradiscono molto diciamo.